25 dicembre 2022 di sera in diretta dal lago di santa maria del bosco non c'è un'anima viva ma si sente il rumore dell'acqua sono con amici alle spalle e sulla nostra sinistra il ristorante ritrovo santa maria operativo poi sul spondo la scala con questo bellissimo chalet questa casetta dove c'è il presepe un luogo magico dove venire anche di sera la notte di natale grazie